Bene, siamo qui con Abdelmajid Daudag, attivista della sinistra bresciana, nonché originario del Marocco, in Italia da 30 anni. È un attivista del coordinamento Morsen Fikri Italia, che ha già organizzato diverse iniziative a Milano di sostegno al movimento Irak, che sta avendo luogo in Marocco in questi mesi. Quindi comincio subito chiedendoti che cosa sta succedendo in Marocco in questi mesi. Allora, prima di tutto ringrazio i compagni con i quali ci stanno sostenendo. Penso che quello che sta succedendo in Marocco è una rivolta popolare, è una rivolta popolare contro le politiche di neoliberalismo. Non dimentichiamo che Marocco rientra in questo parametro, diciamo, indibitato. Le politiche sociali ormai sono state cancellate da questo ultimo governo, con la quale lo considero un governo di destra fascista, con questi islamici, con la quale i primi provvedimenti che hanno fatto dopo la riforma costituzionale che ha avuto il Marocco, grazie al movimento 20 febbraio nel 2011, questo partito ha fatto sì che una politica neoliberista di destra, legata al Fondo Monetario Internazionale di Molindo, prima di tutto il diritto allo sciopero, ha cancellato la cassa della compensazione, è una cassa con la quale interviene sui prodotti di prima necessità del popolo marocchino, la liberizzazione del mercato del lavoro, quello che ha provocato un disastro sociale è il precariato quasi all'ordine del giorno, la disoccupazione giovanile da 25 anni fino a 40 anni, di più del 45%, la conseguenza è evidente che la questione di RIF viene in evidenza dopo l'uccisione di Mohsin Fikri, che è un giovane precario con la quale ha cercato solo di guadagnare la sua vita, viene schiacciato da un camion di mondezza, è iniziata una rivolta popolare al Hossein, ma quella zona qualcuno, se intendi della storia, vive l'immarginazione sociale e l'immarginazione sistematica del regime del 1929 e ha continuato ancora con la zona a fare una rivolta popolare nel 1958-1959 è stata annientata, ripressa dal vecchio re Hassan II, quando era ancora principe e di nuovo è stata una grandissima rivolta nell'84 con Hassan II, re, che ha represso e ha emmerginato questa zona. Questa zona manca, le rivindicazioni sociali, soprattutto del Hierac, non sono rivindicazioni politiche, ma sono rivindicazioni sociali, il movimento chiede il diritto alla scuola pubblica, vuol dire una ostruzione adeguata, con la costruzione del parco universitario che manca, rivendicano addirittura un ospedale con varie specialità. Non dimentichiamo che la zona del 1929, la Francia e la Spagna attaccano la zona del Rif, quando si è ribellato con il grande leader Abdelkrim al-Khattabi, per la prima storia due potenze coloniali annientano una rivolta con un attacco chimico con la quale rimane ancora nella memoria della grande battaglia di Anuel. Ascolta, intervengo per chiederti chi sono le persone che sono scese in strada per protestare nel Rif, ma anche in altre parti del Marocco e qual è stata la risposta dello Stato a queste manifestazioni? E' semplice, è molto semplice, perché le slogan di tutti i manifestanti viva il popolo, chi è sceso in piazza è il popolo, il popolo che rivendica, rivendica il diritto, santo e sacro soprattutto, a una dignità. Non dimentichiamo che le slogan del Movimento 20 febbraio erano tre e queste tre continuano a essere ancora in rivendicazione del Rif, giustizia sociale, dignità e libertà. Tre cose. Cosa è successo nel Rif? E' stata schiacciata la dignità, con la quale ha spinto la popolazione di rivendicare la giustizia sociale e di rivendicare ancora una libertà. E sono scesi in piazza il popolo. Questo Rif ha dato ancora una nuova energia di lotta, con la quale, dopo le arresti che sono state fatte un paio di mesi fa, o un mese fa, gli arresti sono quasi all'ordine del giorno, siamo adesso a quasi a 175 detenuti, tra quelle una donna, una ragazza, un artista, è stata arrestata solo perché è stata una voce della libertà, una voce con la quale ha sostenuto per otto mesi, otto mesi di presidi permanenti, pacifici. Io penso che la storia delle lotte sociali dovevano dipingere questa lotta di Rif, un'altra volta che è stata come quella lotta zapatista, come una lotta di altri tempi con la quale si ripristinano. E per questo anche quello che è successo ieri a Namburgo dimostra che questo neoliberalismo vuole ancora anientare ogni movimento di lotta per la dignità e per la libertà e soprattutto per una giustizia internazionale e per una giustizia sociale. Bene, parliamo del ruolo della militanza femminile in questo movimento, perché come tu dicevi giustamente, anche un'artista di 21 anni è in detenzione da due mesi, adesso in isolamento dalle notizie che arrivano. C'è stata un'altra partecipazione femminile e ieri a Casablanca e oggi a Rabat sono stati due presidi in cui il protagonismo è stato femminile per la liberazione dei detenuti. Qualcuno pensa che il nostro mondo arabo è quasi maschile, ma la lotta di RIV ha mostrato il vero volto, il vero volto delle donne, delle donne che lottano, delle donne che non scendono a patte, delle donne con le quali hanno costituito la lotta dopo le arreste di grandissimi militanti di RIV. Queste donne ieri sono scese in piazza in tutto il Marocco, sono scese al Hosseima, sono scese a Casablanca per portare e per dire che il mondo femminile esiste, il mondo femminile lotta a fianco agli uomini per non dimenticare la nostra artista che è una donna, che è una voce, che è una voce libera, che è una ragazza che sta lottando dentro il carcere, una ragazza con la quale dà ancora questa speranza che solo la lotta fianco a fianco, uomo o donna, solo per ripristinare la libertà e la dignità. Senza la rivoluzione femminile, noi non ci andiamo da nessuna parte e da questa intervista voglio ringraziare e abbracciare una a una che sono scese ieri in piazza nel mio paese per rivindicare questo ridiritto santo e sacro per la libertà e per la dignità e per la giustizia. Grazie, sei stato chiarissimo. Io direi che possiamo concludere, sono sicuro che tu sarai d'accordo con un messaggio di solidarietà ai compagni che lottano in Marocco, ai compagni che lottano ad Hamburgo per un'unica lotta internazionale. Viva il popolo! No, as you said. No, as you said.